Prendi un'emozione, chiamala per nome, trova il suo colore e che suono fa Prendila per mano, seguila pian piano, pensi come nasce e guarda dove va Prendi un'emozione e non mandarla via, se ci vuoi toccare fai cambio con la mia Puoi scegarla a chi non la sa, e tutta la tua vita vedrai Un'emozione sarà Hai qualcuno che vuole fare il cantante? Non è un che io, purtroppo, non potrò fare molto per voi, se non rispondere a qualche domanda Avete qualche domanda? Pensateci bene, perché è molto molto difficile, però in fondo è anche molto molto semplice Nel senso che, certo, noi quando diciamo voglio fare il cantante, pensiamo voglio fare come Laura Pausini Oppure come Tiziano Ferro, però in realtà ci sono tanti modi per fare i cantanti In un coro anche Si può fare appunto il cantante in un coro, oppure si può fare il corista, oppure si possono fare i cantanti con pochi spicci Si può girare anche il mondo, facendo i cantanti nelle piazze con una chitarra Sicuramente la cosa più importante che vi consiglio di fare è di imparare uno strumento Se vi annoiano le lezioni di musica, magari fate una volta una lezione di musica Una settimana invece non ci andate e suonate per i fatti vostri Però l'importante è che è una cosa che vi piace fare Se dopo tanti anni che inseguite, che lavorate, che studiate per raggiungere questo sogno Ancora avete voglia di farlo, significa che forse magari è una strada giusta Però possono passare anche tanti anni, tanto tempo in cui nessuno vi ascolterà, nessuno vi dirà che siete bravi Quindi ci sono tante cose belle e tante cose meno belle Però quando c'è un fuoco dentro che arde, diventa tutto bello alla fine Quindi riuscite a superare anche i momenti più tristi Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi troppo, non metta mai cappotto Che con i denti funga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa sto coccodrillo Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla Solseggia camomilla E mezzo addormentato se ne va Grazie